Ciao a tutti, sono qua per proporvi sempre le mie nuove offerte del mese di febbraio, in cui questo mese mi sono abbastanza sbizzarrito. Vediamo un attimino se avranno un buon riscontro o meno. Partiamo con lunedì 4 febbraio, in cui farò la serata a base di baccalà. Partirò con un baccalà mantecato su crostone di pane, poi del baccalà in tortelli con cipolle torate, guanciale e su vellottata di fagioli, del baccalà fritto e baccalà porri e latte. Tutto compreso con polenta bianca, acqua, vino e caffè a 30 euro. Proseguiremo con lunedì 11 con la cena mediovale, in cui faremo di antipasto un omelette per ruffianne e prostitute, una minestra di ceci alla San Gregorio Magno, una pollo al finocchio e mandorle e un cinghiale alla menta, sorbetto al peregrino, acqua, vino e caffè a 25 euro. Lunedì 18 proseguiamo con una serata del persico, partirò con un carpaccio di persico su crostini di pane, maltagliati i persico pomodorini e zucchine dorate, persico dorato e persico al cartoccio con le olive dolci di Sicilia. Il tutto compreso a 25 euro. Finirò lunedì 25 con delle fraganze alpine, dei panzerotti di funghi e formaggio, una zuppa di briciole saporite, dei broccoletti arrosto con fonduta e delle crese di castagne con chantilly e marroni. Tutto questo a 25 euro. Ricordo che tutti i giovedì sera faremo la serata dello spiedo, antipasto, spiedo e dolce, col vino a 20 euro. E buon febbraio a tutti!